Un lungo percorso espositivo che apre l'iniziativa e con cui l'Italia celebra il centenario della grande guerra e la mostra la prima guerra mondiale 1914-1918 materiali e fonti in programma dal 31 maggio al 30 luglio nel complesso del Vittoriano di Roma. Oggi si inaugura quello che è il centenario della grande guerra e gli avvenimenti che presentiamo quest'oggi sono degli avvenimenti misti di organizzazione di eventi e di mostre come questa che ne è una testimonianza e riorganizzazione e restauro di monumenti che testimoniano la presenza della grande guerra sul nostro territorio. Grazie